Grazie La vacca è lontana Ed è piccolo Io da lì pensavo fosse un elch, è tutto paglione quello che sembra elch Sto filmato e viene tutto morto Tremolante Diete Sotto Non ti dà fastidio, no? Sì Sì, la sabbia dovrebbe essere Se non ti dà Se non ti dà Se non ti dà E' un baggetto Inizio nel niente C'è una cavetta 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 Un paio di legno E' bello Adesso non sono in linea. Buongiorno. Salve. Come va? Bene. Non ti è arrivato ancora? Non arriva ancora. Non, i sono. Il suo fai ventimento, non ci sono un pezzo ma... praticamente, le aromatette, se non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio... Bello! Buona bande! Allora, prego! Visto a venire giù, perché... Sto girando, fa il mondo! Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio! Sto girando, non lo faccio! Sto girando, non lo faccio! Sto girando, non lo faccio, non lo faccio! Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio! Ma non ho perso una prezza! Una che una! Davide! I punti fumatori che trovi su questo percorso, non li trovi da nessuna parte? Grazie! E io scommetto perché il capocaccio è fumatore! Ah, c'è in giro! Avete preso il mio zainetto? No! Bravo, grazie, va che faccio la piano sequenza! Ok, la stampa vuole avere il suo! Buon divertimento! Grazie! Grazie! È un quintale mezzo, eh! Qualcione sul carro d'Astiro, la vattorella! Un incudine così per farci... Guarda, caro! Immagini quando mi riprendi così, faccio l'inverso mesino? No! 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 la bambina 35 centina di lini 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 lo scuola di una 30 centina di parola di parola e che succedono la carica la carica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso toglierla con la terra? Hai fatto due? Certo. Due le hai messe. Sì, sì. Vedete se vedono bene in terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.